Allora, prendete posto, cominciamo. Per chi non mi conosce, sono Federico Ruggeri, direttore del GAR, e quindi ho il compito di aprire questo convegno in cui vedo tante facce conosciute. Alcune ovviamente hanno visto nel corso della loro carriera lo svilupparsi di tutti gli argomenti che toccheremo in questo workshop e quindi non sta a me adesso ricordare tutto quello che è avvenuto nel corso degli anni, lo sentiremo dalle voci dei protagonisti però vorrei fare un attimo il punto su quello che è la situazione attuale la rete GAR sta evolvendo rapidamente e come vedremo ha un piano di sviluppo molto importante sia sotto il profilo tecnologico ma anche sotto il profilo organizzativo non so se qualcuno lo sa ma insomma adesso glielo racconto è stato approvato dal Consiglio dell'amministrazione una modifica di statuto che dovrebbe favorire la partecipazione di altri enti alla compagine associativa e poi presto l'assemblea dei soci ratificherà questo cambiamento quindi con un nuovo statuto. Quindi ci sono cambiamenti non solo organizzativi ma anche tecnologici sentiremo più in là Massimo Carboni del GAR che ha la responsabilità di coordinare il Dipartimento Rete del GAR con le sue idee e quello che lui pensa sarà il nuovo che avanza come si dice però adesso in questa mattina ci occuperemo di un argomento che è particolarmente rilevante l'attività del GAR è un'attività a livello nazionale ma poi si appoggia a livelli locali quindi di regione, di comune, spesso a infrastrutture che sono state sviluppate come reti metropolitane o come reti regionali. Molto di questo è nato diversi anni fa adesso non andiamo a contare quanti perché poi sì vabbè insomma ciascuno di noi ce l'ha nella sua agenda e però lo sentiremo come dicevo dai protagonisti dal nostro punto di vista però questo vuol dire che è possibile fare un passo in avanti e quindi anche uno degli scopi di oggi è capire se quello che è stato fatto a suo tempo è ancora valido e se volessimo andare avanti come ovviamente dovremmo quali sono i passi che possiamo fare e come l'esempio di quello che è stato realizzato fino adesso può essere utile per altri che magari ancora queste cose non le hanno fatte o non le hanno realizzate. Quindi diciamo c'è da un lato la visione di quello che è stato fatto ma anche diciamo cercare di vedere quello che è possibile ancora fare sia per le reti metropolitane e regionali che sono state già fatte ma anche per quelle che ancora sono da fare quindi vedere se è un modello che è ancora valido e ancora utilizzabile per il futuro. E detto questo passo la parola ad Antonio Cisternino che è delegato del Rettore per l'informatica all'Università di Pisa e che ovviamente farà a nome del Rettore gli auguri a tutti quanti. Grazie, intanto benvenuti. Era un po' che non si faceva un evento sulle reti a Pisa quindi sono contento che questo sia possibile. Il Rettore si scusa ma quando è arrivato l'invito era previsto in calendario il Senato per oggi e quindi è a presiedere il Senato ma in qualche modo siamo nel dipartimento da cui lui proviene ed è sicuramente un Rettore sensibile alle tematiche di CIT e allo sviluppo di un'importante esperienza che a Pisa è stata fatta per un lungo periodo e che molti in questa sala conoscono e che in qualche modo sta portando a decidere cosa si fa come diceva adesso Federico cosa che si fa per il futuro cioè continuiamo a investire sullo sviluppo non lo facciamo come si fa a passare il testimone perché poi per la prima volta tutte le reti che in qualche modo le abbiamo costruite un po' in tanti modi adesso sono diventate infrastrutture importanti e bisogna anche capire come si fa a garantire la sostenibilità lungo un periodo che sta diventando non più quello di una carriera ma di un periodo più lungo e quindi credo che sia un momento importante siamo tutti contenti di essere tutti qui e che tutti hanno preso un giorno dalla propria agenda per venire a Pisa e a questo punto ringraziandovi nuovamente direi che diamo spazio al programma perché Saluti vi ha detto bene che non ci sono politici e quindi si può subito passare la parte tecnica si facciamo la svelta così abbiamo più tempo poi per le discussioni e quindi partiamo con la prima sessione sulle reti metropolitane ieri, oggi e domani e cedo il microfono al moderatore Angelo Scribano che è stato il primo presidente di GAR grazie grazie Federico buongiorno a tutti io intanto vedo che abbiamo ricoperato 20 minuti ed è importantissimo perché per i relatori successivi mi veniva fuori un tempo fra i 12 e i 15 minuti a testa quindi era veramente poco così forse riusciamo ad arrivare ai 15-20 minuti per ogni relatore successivo non perderei altro tempo e chiamerei subito il primo relatore che è Luciano Modica tutti conoscete o comunque già il rettore dell'Università di Pisa il presidente della Cruy ma quello soprattutto mi piace ricordare padre, uno dei padri fondatori del Consorzium GAR a te Luciano, grazie è uno dei segni più impietosi dell'età che avanza per me è quello di essere chiamato spesso mi fa molto piacere naturalmente anzi colgo l'occasione per ringraziare subito gli organizzatori del Consorzium GAR di questo invito vengo invitato a raccontare vicende di vita vissuta tanti anni fa 20-30 anni fa e di raccontarli diciamo facendo leva sulla mia esperienza personale che ho vissuto quegli anni però questo intervento come altri che ho fatto di questo tipo non vuole essere semplicemente ti ricordo per quanto piacevole confortante o anche stimolante possa essere ma ho cercato ora vedrete ho cercato di almeno qui e lì di riambientarlo in una sorta di sguardo al futuro di speranza per il futuro che secondo me è l'unico vero motivo per cui iniziative di questo tipo hanno senso non è una commemorazione vuole essere l'occasione per riflettere come si possa andare avanti che cosa vogliamo chiedere a coloro che in ogni caso a cui in ogni caso è affidato il nostro futuro e cioè i nostri giovani la prima osservazione che voglio fare è questa GAR o in genere la rete nazionale della ricerca e delle università è nata diciamo negli anni fine anni 80 inizio anni 90 e poi si è sviluppata fino a oggi e ognuno di noi ne è stato almeno in piccola parte un protagonista ma i veri giganti di questa storia che purtroppo per ovvie ragioni non sono più con noi non siamo noi ecco noi siamo come dice il detto di Bernardo di Chartres noi siamo come dei nani che ci siamo appoggiati abbiamo seduto sulle spalle di giganti perché se no mai avremmo potuto costruire questa impresa chi sono questi giganti beh uno qui è doveroso ricordarlo anche se è una persona che alla rete in senso stesso ha dato poco ma all'informatica ha dato moltissimo ed è qui a Pisa non posso non citarlo ed è Sandro Faedo io quando racconto queste cose quando racconto queste favole antiche mi sembra fatta le debiti e proporzioni di risentire Sandro con cui ho stato vicinissimo negli ultimi anni della sua vita che instancabilmente mi raccontava le favole sempre uguali e sempre arricchite di qualche dettaglio della nascita dell'informatica a Pisa ebbene io penso però che il suo modo di vedere le università l'innovazione ha contagiato l'ambiente pisano e gli ha dato quello che poi ha permesso quello che tra poco racconterò a proposito di reti metropolitane l'altro grandissimo gigante questo invece penso che tutti quanti lo riconosciate come il padre di Gar è Tonino e Antonio Ruberti racconto subito un aneddoto che non ha niente a che vedere con la storia di oggi ma può far capire un po' posso dirlo di che pasta erano le persone che ci governavano in quegli anni siamo a metà anni 80 io sono un giovane matematico direttore di dipartimento qui di matematica ho un rapporto di collaborazione scientifica molto fitto con l'università di Bonn in Germania e vado spesso a trovare i colleghi tedeschi in quegli stessi anni mi sembra 87 posso parliarmi di un anno ma non importa questo il presidente della repubblica di allora Cossiga viene insegnito di una onoreficenza accademica da parte dell'università di Bonn con mia grande sorpresa proprio sorpresa vera mi arriva una lettera al culinale in cui si dice visto che lei è un professore italiano che frequenta spesso l'università che conferirà questo riconoscimento al Presidente della Repubblica la invitiamo a far parte della delegazione ufficiale addirittura a viaggiare sull'aeropresidenziale verso Bonn immaginate a me in fondo giovanissimo professore l'emozione la sorpresa di questa lettera del tutto inaspettata non presiuta da niente così una lettera che mi arriva per posta e così intimorito con la mia giacca e cravatta migliore vado in questo aereo ovviamente io il presidente come capo inglesiasi lo saluto un attimo ovviamente il presidente sta per il conto suo però insieme al presidente c'erano tante altre persone tra cui l'allora rettore di Roma Sapienza Antonio Ruberti e l'allora ministra dell'istruzione non so chi se la possa ricordare ma io sono abbastanza anziano Franca Falcucci l'onorevole Falcucci con loro scambio le parole di rito sono seduti vicine a me e diciamo scambiamo qualche chiacchiera e Ruberti Antonio Ruberti il professor Ruberti il rettore Ruberti diciamo ha come dire la gentilezza la cortesia di dedicarmi in questo viaggio aereo un po' più della banale diciamo conoscenza piacere di conoscerci ma ci raccontiamo lui mi racconta ci raccontiamo lui mi racconta un po' alcune sue idee sull'università ricordate tutti che poi dopo un anno lui diventerà ministro dell'università forse uno dei migliori ministri se non il miglior ministro dell'università che abbiamo mai avuto in Italia e questo rapporto di amicizia con Ruberti continua tanto che io conservo ancora molto gelosamente il biglietto con cui Ruberti allora commissario europeo della ricerca mi spedisce quando io vengo letto rettore della università quindi diciamo è su questi giganti della scienza della politica della scienza che credo si debba riconoscere che Gar nasce non faccio la storia di Gar perché tutti quanti la conoscete nasce come il tentativo di armonizzare varie reti che si erano andate creando nel tempo siamo proprio ai primordi della telematica ma quando è che cambia aspetto la vicenda cambia aspetto in un momento di crisi di Gar siamo all'inizio degli anni 90 cambia aspetto perché succede che diciamo si sono sommate due cose questa è la mia interpretazione da un lato c'è l'autonomia universitaria in piena foritura la legge Ruberti dell'89 tutte le università fanno a gara per far da sé vogliono essere protagoniste del loro futuro per fortuna io sono un grande sostenitore abbiamo tutti quanti abbiamo perché io ero rettore diventato nel frattempo abbiamo la voglia di affermare il ruolo del nostro Ateneo e di affermarlo con iniziative innovative particolari speciali molto coraggiose quindi abbiamo una situazione universitaria io parlo da quel lato soprattutto in cui ogni università va per conto suo proprio per conto suo e quindi si acquistano connettività qui e lì si fanno reti le più strane si fa tutto un coacervo di soluzioni che però alla fine mettono in crisi l'idea di armonizzazione che era nella mente di Ruberti e di Orio Carlini cosicché il ministero allora guidato da una insuperabile direttore generale che era Giovanni D'Addona decide di cambiare passo e in una situazione di autonomia crea una commissione reti e calcolo scientifico CRCS in gergo che viene incaricata di studiare come affrontare questo problema alla Cruy viene richiesto di nominare un proprio rappresentante dentro la CRCS adesso questo può apparire banale non era banale allora perché la Cruy era una situazione privata di rettori non compariva praticamente in nessuna legge non era praticamente ben vista sembrava quasi ora mi si perdoni il dopolavoro dei rettori il modo con cui i rettori si vedevano ogni tanto no ma ci ho fatto parte anch'io però erano gli anni anche in cui proprio a causa dell'autonomia la conferenza come dire cominciava ad avere un ruolo sotto la guida di Scarascia Mugnozza e poi di Paolo Blasi cominciava ad avere un ruolo importante però di Gar non voleva occuparsi nessuno allora mi chiama il presidente di allora Paolo Blasi il fisico di Firenze e mi dice Luciano sei l'ultimo arrivato dei rettori c'è una cosa spinosa da trattare perché non vai tu in CRCS e io con l'incoscienza della gioventù dico ma andiamo in CRCS non so nulla proprio rigosamente nulla di reti telematiche e di questi problemi non è vero in realtà e frugando tra le mie disordinatissime carte ne parlavamo con Nino Mazzeo un attimo fa e purtroppo non siamo dei grandi archivisti almeno io non lo sono ma non so Nino e ho ritrovato un documento dell'89 quindi precedente la storia che sto raccontando quando io ero consigliere di amministrazione qua del nostro Ateneo in cui c'è un progetto SIP si chiamava allora la SIP la Telecom diciamo offriva all'università sull'esempio di Atenei importanti parole testuali come il Poitecnico di Torino l'Università di Firenze di Siena e di Bologna proprio sto citando letteralmente si offriva un collegamento attraverso centralini come dire adeguati per un collegamento tra le varie strutture dell'università per la fonia e per i dati per le immagini si sarebbe visto in seguito perché il collegamento era lentissimo non so se una mano mia o la mano di un qualche collega consigliere di amministrazione scrive su questo documento progetto molto costoso e poco innovativo e infatti il progetto non andrà avanti se volete per fortuna ora poi cercheremo di capire perché quindi in realtà qualcosa prima c'era anche se pochissimo arrivo in CRCS sotto la guida appunto di Giovanni D'Addona e lì succede ogni tanto capita per fortuna un piccolo miracolo cioè la famosa Italia burocratica quella che non sa decidere nulla che non si muove che è arretrata che è nepotista che fa tutte le cose più gravi della terra improvvisamente comincia a correre a correre più di ogni situazione analoga forse anche in altri paesi nell'arco di tre anni dal 95 al 98 non solo Gar viene rinvigorita ma si dà vita al progetto Gar B adesso ora non faccio la storia è troppo complicata che sarà il vero passavanti fondamentale ma chi sono i protagonisti di questo cambiamento così forte? beh c'è un protagonista sociologico di cui parlerò dopo e anche alcuni protagonisti umani diciamo forse la cosa che rende tutto più facile è che caduto il governo il primo governo Berlusconi è entrato in gare il governo Dini il ministro dell'università è un personaggio di grande rilievo ma molto bizzarro come Giorgio Salvini il fisico presidente della Camera di Incei che nulla si intendeva di politica o di ammessa per nulla proprio però aveva una grande capacità diciamo di visione innovativa chiama accanto a sé Federico Rossi allora rettore di Cassino e segretario generale della Cruy vedete che la Cruy comincia a giocare un ruolo che allora era impensabile e Federico Rossi a cui io ero succeduto come segretario generale della Cruy nel 95 mi chiama e mi dice Luciano qui dobbiamo assolutamente far rapidamente e dar vita a questo progetto di rete che faccia ripartire GAR e mette a disposizione Federico si inventa o mette a disposizione anche un canale importante di finanziamento cioè si intravede la legge 488 per gli esperti di allora e comunque i fondi del PON i fondi comunitari per le regioni obiettivo 1 quindi il nostro meridione messa a disposizione per far partire il progetto decisione quanto mai difficile dal punto di vista degli atenei medionali che rinunciavano a una parte del loro finanziamento a favore di una rete che comunque avrebbe servito tutta l'Italia e naturalmente anche loro e infatti Nino Mazzeo ricorderà che si venne controbbiato dal fatto che a Napoli in altre città del sud venne organizzata l'attività formativa quasi come dire come un modo per riconoscere questa priorità del nostro meridione insomma dal 95 Salvini e Federico Rossi al 98 e quindi Berlinguer ministro e Luciano Guerzoni sottosegretario la cosa parte e parte in un modo straordinario il centro di questa attività è la commissione delegati rettorali di GAR alla CRUI una invenzione che io non so nemmeno come ho fatto mi è venuto in mente di farlo e l'ho fatta cioè ho chiamato da ogni città ho chiesto ad ogni ateneo di indicarmi la persona incaricata di gestire i rapporti con la futura rete GARBI è una commissione che fa un lavoro straordinario assolutamente straordinario diciamo io lo ricordo ricordo da un fatto diciamo un po' particolare e questo lega all'altro problema di questa commissione fa parte per ogni ateneo una persona tranne per Pisa ma non per mia forzatura assolutamente no ne fanno parte Peppe Pierazzini e Beppe Attardi che è qui presente come mai due persone da Pisa beh sì certo perché Pisa era vista come il luogo dove si stava sperimentando ora lo vedrete una grande innovazione ma anche per un altro motivo più politico più sottile si voleva far comprendere che come a Pisa aveva miracolosamente funzionato un accordo tra un ente di ricerca l'INFN e l'Ateneo e l'informatica dell'Ateneo così poteva capitare così come capitò a livello nazionale era una scelta precisa mi si diede via libera su una piccola forzatura perché era un segno di cosa volevamo fare si rinunciava in parte al desiderio di ognuno di avere il proprio spazio il proprio ruolo e a favore di una struttura che avrebbe servito tutti allo stesso modo senza che nessuno potesse rivendicare una diretta priorità anni complicati tra il 95 e il 98 ora ricordate tutti almeno i più anziani di noi ricorderanno le grandi bagarre tra l'INFN e il Cinega per chi doveva essere l'ente gestore della rete che poi non è tutto così semplice da un lato i fisici che sono sempre dei grandi utilizzatori di banda cioè mangiavano qualunque banda arrivasse finiva per il 95% in mano ai fisici web era l'inizio era l'inizio web quindi attenzione che non c'era il flusso attuale dall'altro il Cinega allora piccolo consorzio di 13 società non era il Cinega di oggi che invece rivendicava il suo ruolo di fornitore di connettività per buona parte degli atenei italiani insomma un problema anche come dire diplomaticamente complicato che fu risolto in tre anni cosa che ci sembra una cosa incredibile dicevo a Pisa nel frattempo succede un'altra storia in perfetto parallelo e si influenzano l'un l'altra ero il rettorato lo racconto tante volte lo so che come le storie di Faedo sono sempre uguali però forse sono piacevoli a sentirsi in una sera il rettorato a fine giornata mi spuntano in studio in ufficio mi spuntano tre persone uno era il collega Pierazzini che conoscevo benissimo poi due giovani tecnici che non avevo mai visti in vita mia Stefano Suin e Paolo Caturelli due matti due matti visionari tecnici dell'Ateneo che mi dicono rettore abbiamo avuto un'idea stendiamo per le vie di Pisa una rete in fibra ottica di nostra proprietà cioè la proprietà dell'università intendo dire e se lei è d'accordo si parte io rimango perplesso diciamo ancora non c'è nulla guardate che siamo lontanissimi bisogna figurarsi anche quegli anni c'è però un grande sindaco a Pisa che è Piero Floriani il professore di italiano ma a parte che il professore di italiano è persona di grande capacità visionaria che mi dice subito di sì e così parte un'avventura incredibile incredibile la mattina verso sette e mezza del mattino spesso una volta a settimana mi telefonava uno dei miei collaboratori appunto Caltorelli Suino chi altri e mi diceva rettore stanno scavando in via X che facciamo passiamo la fibra e io ah sì passiamo la fibra vi assicuro che è la storia è la storia questa qua e per evitare che si facessero confusioni creiamo fuori di ogni normativa dei tombini ad hoc dei tombini che ho scritto sopra a Serra che era il servizio rete Ateneo era il nome dell'acronimo in modo tale che si capisse che quelli erano fibre non del monopolista o di altri ma erano fibre dell'università e in questi due anni la rete viene stesa cioè Pisa diventa la prima università che dispone di una rete in fibra ottica metropolitana di proprietà su cui poter fare non solo il passaggio dei dati delle immagini della fonia ma soprattutto farci sopra sperimentazione diventare competenti in questa sfida delle reti metropolitane guardate ho fatto studiando questo intervento mi sono messo conto di una cosa forse pochi lo ricordano Telecom nel 95 lancia un progetto visionario onestamente visto oggi che si chiamava Socate dove Socate è un acronimo anche questo che parla di reti metropolitane non mi ricordo qual è l'acronimo ma insomma vi assicuro che è un acronimo questo acronimo questo progetto viene passato avanti addirittura alla fine collega dopo due anni un milione e mezzo di abitazioni italiane e però nel 97 Telecom viene privatizzata tutti ricordate questa vicenda e Socate viene abbandonato attenzione laddove un ente un'impresa di proprietà pubblica come la prima Telecom o un Ateneo erano in grado di agire si creavano strutture di alta innovazione quando entra e non ce l'ho col privato ora poi parlerò anche di questo quando il privato entra e vede la difficoltà anche di rendere facilmente produttivi questi investimenti i progetti si abbandonano e questa è una lezione che dobbiamo tenere presente e su cui tornerò alla fine di questo intervento tra pochissimo farla breve insomma riescono i miei colleghi a far partire Garbi una connettività mai vista per tutti gli Atenei ricordo i grandi problemi per stabilire con Beppe Attardi la tariffazione di tutti questi collegamenti cioè la roba in cui la tecnica e la visionalità andavano insieme eravamo ora lo so che è un po' risaputo dirlo eravamo davvero hungry and foolish come diceva come dirà dopo Steve Jobs perché eravamo affamati di innovazione un po' pazzi veramente un po' pazzi prendevamo strade impensabili al punto tale che nel 99 mi viene in mente di dare una struttura a questa Gar fondando insieme con gli enti NFN Enea e CNR cioè con i maggiori italiani fondando il consorzio di cui sono stato il primo presidente sia pure per dieci giorni perché? perché nel frattempo vengo eletto al senato della repubblica non posso ricoprire la carica di gar e di senatore quindi lascio questa avventura che tutt'oggi continua e con grande successo Gar tornerà nella mia attività politica diciamo non particolarmente brillante ma insomma così è durante tutto il quinquennio 2001-2005 2006 tento disperatamente di far passare un emendamento mai approvato che equiparasse il consorzio Gar ai consorsi in modo da poter avere una parte dei fondi dell'FFO e questo avviene nel 2008 ultimo anno in cui l'FFO viene deciso dal governo di cui io sono sottosegretario e avviene all'italiana cioè non c'è norma e vabbè si scrive nel decreto speriamo che nessuno se ne accorga nessuno se ne accorse e tutt'oggi una parte dell'FFO va a finire da un consorzio che non è un consorzio interuniversitario anche se rappresenta attraverso la fondazione di tutte le università lo dico sperando che nessuno domani vada a denunciare questo no dico per scherzo ecco concludo 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 con quello che dicevo prima io da questa storia breve che vi ho raccontato e che spero vi possa avere interessato ho cercato di appunto ricavare qualche indicazione per il futuro una è una l'ho già detta l'ho già detta lasciamo sempre spazio all'innovazione fermarsi perché i problemi sono troppo grandi non è il modo giusto con cui le pubbliche amministrazioni in particolare le università possono affrontare questi passaggi e noi siamo oggi come allora forse oggi molto più che allora in momenti difficili per il nostro paese molto difficili in cui davvero sembra impossibile scommettere sull'innovazione però mi è venuto incontro un libro di un economista italamericana che certamente voi tutti conoscete Mariana Mazzucato che adesso insegna a Londra che nel suo libro lo stato innovatore del 2013 poi recentemente tradotto anche italiano nel 2018 fa delle affermazioni che io mi limito a leggere e a invitarvi a conclusione di questo intervento a invitarvi a vedere come risuonano nella mente nella nostra mente nella mente di chi deve costruire il futuro dice la Mazzucato proprio cito letteralmente per affrontare sfide di tale portata c'è stato bisogno di capacità di visione di una missione e si è avuto di fiducia da parte dello Stato riguardo al proprio ruolo nell'economia come argomentò con eloquenza Keynes nel 1926 la cosa più importante per il governo non è fare ciò che gli altri fanno già o farlo un po' meglio o un po' peggio ma fare ciò che presentemente non si fa del tutto per assolvere un compito del genere c'è bisogno di capacità di visione e di volontà di tradurre la visione in realtà all'interno di spazi specifici non soltanto capacità burocratiche che sono fondamentali ma competenze specifiche reali in ordine alla tecnologia e al settore in questione solo una visione esaltante del ruolo dello Stato può consentire di mettere insieme queste competenze e progettare uno scenario nello spazio rilevante non cito le altre perché sono interessanti ma la farei troppo lunga chiudo su questo aspetto ecco io sono convintissimo che il nostro paese ha cominciato ad avere problemi nel momento in cui ha perso fiducia nella sua stessa università come ho scritto in un appello del 2013 che ebbe anche un qualche successo mi sembra 7000 firme in pochissimi giorni un paese che non ha fiducia che non ama la sua università in realtà non ama il suo futuro non ha fiducia nel suo futuro questo appello fu rivolto a tutti i segretari di partito che si presentavano alle elezioni politiche del 2013 mi rispose ci rispose uno solo Oscar Giannino cioè il dimenticato forse come dire meglio che si è dimenticato esponente che poi non si presentò nemmeno alle elezioni era il segno preciso che la nostra politica da tutte le parti per tutti i partiti non si stava rendendo conto nel 2013 di ciò che succedeva eppure e qui devo la cortesia a un vero archivista bravissimo che è Beppe Attardi eppure nel 96 quando fu poniato il progetto Garbi sapete cosa scrivevano scrivevano io non c'entravo i nostri collaboratori sostenevano le ragioni della rete da due motivi primo leggo perché affinché riequilibri la situazione delle diverse circoscrizioni territoriali e delle sedi degli enti ovunque siano localizzati quindi un livello di riequilibrio nazionale e poi aggiungeva le responsabilità europee sono particolarmente rilevanti perché ove processi di industrializzazione in Africa fanno fatica ad affermarsi con conseguenti pressioni migratorie sul continente europeo siamo nel 96 e un gruppo che sta parlando di come fare la rete nazionale della ricerca e trova quali ragioni importanti due ragioni che tutt'oggi sono sul nostro tavolo ancor più aggravati di allora lo squilibrio tra parti dell'Italia la pressione migratoria che ci viene dal sud del Mediterraneo e questa capacità di visione che abbiamo dimenticato di utilizzare al modo giusto ecco Gar in qualche misura quella storia di Gar è una testimonianza che questa è utile e potrà avvenire ancora utile in futuro grazie grazie a tutti grazie Luciano essenzialmente soprattutto per quello che ci ha raccontato e ci ha fatto rivivere cose che in qualche modo forse avevamo dimenticato però sono importantissime per la nostra vita allora secondo relatore il professor Antonino Mazzeo Nino Mazzeo Nino Mazzeo dell'Università Federico II di Napoli che è stato scusate ma piccio da spegnere la cosa allora coordinatore del programma Garbi Mann coordinatore di Multipon della rete metropolitane per la campagna l'ultimo è per la campagna come si chiama Rimic o mi sbaglio qualcosa del genere Rimic sì vabbè il professor Mazzeo ci parlerà se mi metto gli occhiali forse lo vedo meglio delle dei 28 sottoprogetti di Garbi Mann grazie grazie a te grazie allora buongiorno a tutti sono stato veramente felice di questo invito perché è un po' di tempo che non mi occupo diciamo di networking e non partecipo alla comunità di Gar ho ritrovato tanti amici e la cosa mi ha fatto molto piacere quando mi è stato fatto l'invito ho detto subito sì Enzo mi ha chiamato Enzo Valente e io ho detto subito sì il giorno dopo sono entrato in panico perché non sapevo che venire a dire nel senso che parlavo di qualcosa che si era sviluppato circa 20 anni prima se non di più e mi avevano garantito che nell'università ci stavano tutti i documenti del progetto ci saranno ma non avete idea che cos'è la Federico II ho avuto una risposta diciamo peggiore di quello che ha avuto Luciano Modica me lo confidavo un momento fa dalla Crui gli ha detto dicevo rettore venga qua e le mettiamo a disposizione gli archivi a me hanno detto una cosa del genere ma gli archivi della Federico II sono complicati e quindi non avrei potuto trovare un figo secco e allora ho cominciato a pensare come sempre che le risorse devono uscire da te stesso quindi ti devi concentrare e vedere cosa fare ho fatto un broadcast ad amici diciamo anche che stanno qua presenti qualcuno ha trovato qualcosina però non c'era molto materiale mi sono messo a cercare le mie carte e ovviamente sono tornato indietro nel passato alla mia giovinezza scoprendo cose che mi ero completamente scordato fin tanto che non ho trovato questa busta ci sono stato due giorni a trovarla non vi so dire quanta polvere ho preso però quando l'ho trovata ho cominciato ad avere meno problemi perché qua dentro bene o male ci stanno dei punti di riferimento e come ho detto Enzo avrei il piacere poi di darvene una copia perché è un peccato che si perdano certe informazioni storiche che poi seguono le persone che l'hanno fatta allora io diciamo ho partecipato posso dire come quarto livello vi dico quali sono i livelli non di priorità ma di importanza ma livelli diciamo operativi all'avventura di Gar Garbi il primo livello è il livello del ministro è il livello dei suoi sottosegretari i capoi di gabinetto cioè le persone che politicamente come ha detto Luciano gestiscono certi fatti quindi mi trovo a cavallo tra Ruberti e i successivi diciamo ministri che sono venuti poi abbiamo il livello ovviamente quello dei rettori quindi i rettori che determinavano rettori o presidenti di enti importanti CNR INFN non scordiamoci che questa è una storia una partita che si gioca a quel livello poi abbiamo il livello dei delegati dei rettori ecco io sono stato delegato dei rettori ho avuto la fortuna di essere un delegato diciamo con due rettori importanti per la Federico II sono Carlo Ciliberto vicepresidente del CNR e Fulvio Tessitore diciamo senatore PD successivamente e sono stato un delegato con Carlo Ciliberto diciamo tecnico nel senso che avevo un delegato politico che mi affiancava per l'informatica con Fulvio Tessitore sono stato un delegato diciamo a tutti gli effetti con molti poteri diciamo in tema di informatica che ci hanno permesso di fare certe cose non perché io fossi bravo come delegato ma perché avendo una struttura molto verticalizzata è stato più semplice fare delle cose piuttosto che nelle strutture più aperte quindi non sono fautore della diciamo della dittatura però è stata una coincidenza che ha permesso di fare queste cose allora ho partecipato quindi a tutti quelli che erano i comitati di cui parlava Luciano Modica per fare per fare GAR i due documenti fondamentali che ho trovato sono questo qua di cui faccio vedere una copia proiettata diciamo qualcosa e poi questo documento qua che è il progetto esecutivo di GAR non c'è un progetto reti metropolitane GAR era GAR B B perché veniva dopo A ma GAR iniziale non si chiamava GAR A si chiamava GAR abbiamo fatto GAR B perché veniva dopo B dopo A GAR B è un progetto unico che è stato creato diciamo sponsorizzato ovviamente dal presidente della CRU Luciano Modica con tutto i legami verso sopra che lui ha gestito e di cui io ero ovviamente non ne sapevo niente diciamo per me il referente era Luciano Modica e e e questo progetto è stato strutturato in tre parti politicamente se posso cominciare a proiettare vediamo come si va avanti è un progetto diciamo 98-2000 preparato nel 97 questo progetto è strutturato in tre parti per la tipologia di finanziamento che è in area obiettivo quindi non è che abbiamo presentato tre progetti differenti che sono andati avanti differenti no è stato un unico progetto che aveva un coordinatore unico di fatto e che aveva tre enti attuatori di cui uno era INFN per il progetto nazionale il progetto reti metropolitane era la Federico II perché la Federico II è ovviamente area obiettivo si è presa l'università più rappresentativa in termini dimensionali dell'area obiettivo che a cui è stato affidato ovviamente il ruolo di coordinare diciamo il progetto che si chiama reti metropolitane dopodiché c'era il terzo progetto importantissimo come abbiamo visto dopo per il numero di tecnici che ha sfornato che poi sono finiti nell'industria oltre che nell'università quindi è stata una cosa veramente interessante che è il progetto di formazione che è stato dato a un'altra diciamo università in area obiettivo che era l'università di Catania e il responsabile era la buonanima di Lorenzo Vita diciamo un collega che è morto anzitempo e che ha governato diciamo questo progetto formazione su cui però tutti eravamo coinvolti cioè loro erano il capofila che gestiva la parte burocratica amministrativa però i comitati di fatto andavano nella sostanza di come questi progetti si dovevano portare avanti se vedete i soldi non sono pochi sono 285 miliardi miliardi di lire ovviamente di cui il finanziamento era 153 milioni miliardi diciamo da partecipe e 102 in obiettivo 1 quindi le aree interessate a questo progetto erano aree in obiettivo 1 2 e 5 B famose che noi recitavamo a memoria come sigle bene non vi sto a dire le liti i conflitti che cosa poteva significare circa 67 erano le università allora in tema di ripartizione dei finanziamenti partendo come ha detto Luciano da una situazione in cui ogni università pensava di avere di una certa quota la sua quota parte economica in base a quella che era una legge di spartizione per pesi diciamo come si faceva una volta cioè c'ho 100 tu pesi tot e ti pigli tot eccetera bene le università del sud ovviamente hanno dovuto digerire con grande difficoltà il fatto di fare un discorso nazionale e convincere tutti che era un'opportunità e non era un modo per portare l'università del sud dei soldi che erano di diritto per l'università del nord era una cosa di fine però non vi sto a dire quante liti ho fatto io in seminari perché facevamo continuamente tutta questa vita di diffondere comunicare che è stata una cosa complicata quante liti ho fatto io con persone che venivano a dire ma voi che andate trovando con i finanziamenti avete avuto i soldi dell'area obiettiva eccetera ma non vedete proprio le voci che le urla perché capite dopo aver tutto su sforzo arriva uno per dividere altri fondi che diceva che io ho preso 285 miliardi dico bello 285 miliardi cioè siamo divisi quindi non è che cioè voglio dire c'è stato questo problema che è stato brillantemente superato per un fatto fondamentale che in cui si stava Luciano Modica e che governava diciamo il sentire dei rettori con grande bravura e che avevamo un ministro e un direttore generale del che era che diciamo che è del del Miorro e che era da dona che ovviamente riusciva a sanare queste cose bene detto questo che fanno queste reti metropolitane e beh signori miei noi abbiamo capito una cosa Garre aveva portato su poche università un punto di accesso e andiamo a vedere la distribuzione delle università italiane oltre che territoriale vediamola nel territorio Federico II ma sapete quante se detieni infinite palazzi palazzini centri campus eccetera così è Milano così sarà Torino e via dicendo quindi il problema fondamentale in un momento in cui la email la faceva Stefano Trumpi probabilmente perché aveva creato primo contatto e gli altri non l'avevano e questa cosa era un problema allora che Garre portava il nodo in un punto in una città dico Napoli perché ce lo ce lo aveva a mezzo cannone a Napoli non serviva a niente perché a mezzo cannone soltanto poche persone che stanno vicino al nodo potevano usufruire di questa connettività signori cablaggi non esistevano la categoria 5 6 stavano nel futuro cioè stiamo parlando di doppini telefonici trasformati in sistemi per fare passare qualcosa 64k era era l'infinito ok bene detto questo abbiamo subito capito nel comitato che il problema fondamentale per far decollare un sistema di networking così come l'ha diciamo evoluto folle perché allora era folle pensare a una cosa del genere era la capillarità tutto il comitato è stato d'accordo su questo punto tant'è che abbiamo cercato di andare a mettere sulla parte reti metropolitane una cifra adeguata cioè una cifra adeguata per far sì che sta capellarità potesse arrivare a che cosa? a collegare almeno tutte le sedi universitarie sparse in un territorio locale questa è stata una scelta importante quindi la gestione delle reti metropolitane è stata una gestione che ha visto il coordinamento di tutti i delegati che potevano accedere a questi finanziamenti ora ve li faccio vedere per definire progetti singoli di potenziamento dell'area locale e distribuzione della banda che Garra avrebbe portato col progetto principale nelle varie sedi universitarie questa cosa per fortuna si è spinta sempre più allora cosa nasce? e beh man mano che passa il tempo nasce un concetto di rete metropolitana rete regionale e via dicendo beh su questo abbiamo avuto fasi oscillanti nel senso che quando c'è stato il governo Berlusconi con Bossi con un'idea di federalismo andavate a parlare con un sindaco con un presidente di regioni dicevate federazione subito loro venivano dietro di voi quindi sono nate iniziative di reti regionali o reti locali proprio perché simile a un modello di federazione un'Italia federata con le proprie autonomie gestite dalla regione però poi questa cosa andava in negativo al successivo cambio politico e se reti non venivano fatte qual era il problema? che mentre parlare di una connettività all'interno di un ateneo o tra ateneo enti di ricerca è un fatto compreso dalla comunità scientifica parlare di una federazione che vede anche la pubblica amministrazione entrare in questo tipo di rete e le scuole entrare in questo tipo di rete è un problema delicatissimo oggi come oggi secondo me è irrisolto perché voi sapete che Enzo è uno che ha vissuto pesantemente questa fase voi sapete che non c'è una razio tanto buona per far sì che il sistema paese al di fuori della ricerca abbia anche una connettività normale bene forse sono i provider che oggi stanno fornendo questo servizio come calmerando tutto con una convenzione che è la CONSIP quello che è la come si chiama la SP eccetera eccetera dove l'ente arriva la si piglia sta connettività ma è questa la soluzione beh forse per i ministeri se la meritano pure però per la ricerca scientifica qual è la soluzione qual è stata l'innovazione che è stata fatta è stata fatta un'innovazione fondamentale cioè noi siamo andati a pensare una soluzione che era al di sopra delle soluzioni che potevano fornire tutti gli operatori tecnologici del momento parliamo SIP telecom non c'era nessun altro con la rete Gar e Garbi si sono formati gli privati cioè è venuta fuori una mentalità in telecom del networking i primi router che arrivavano se li studiavano e se li facevano spiegare da noi è chiaro che vuol dire vuol dire che la rete Gar Garbi e le successive evoluzioni che ha avuto si sono sempre proiettati come un punto come un picco di innovazione nella nazione abbastanza al di sopra quella che era il normale fornire servizi da parte dei provider a tutta la comunità dei civili e delle industrie e degli enti pubblici questo è un fatto non da poco perché ha rafforzato il ruolo dell'università e degli enti di ricerca come un punto importante di innovazione per il paese e di formazione degli operatori bene la domanda che ci dobbiamo fare ma siamo ancora in questa situazione o l'arrivo del 5G farà dire a qualche politico sbrigativo che cerca un cortocircuito o un'economia che per caso non ha senso più Gar Ghir questo quello e quell'altro ragazzi se io qua c'ho un 5G e me ne vado alla Federico II e piglio la rete non vado alla stessa velocità con cui ci vado col cellulare perché me ne vado col 5G e Ponticello il telefono del mio dipartimento non lo uso più è fisso sta là quando chiama mi preoccupo perché è perché è un telefono che non ha senso diciamo se poi andate a dire togliamo i telefoni dalle schivanie qualche sindacato magari dirà no non è possibile quello è uno strumento di lavoro sarà pure così però chi è che usa un fisso rispetto a un cellulare oggi negli enti tutti usano il loro cellulare c'è il modo per differenziare il cellulare da un cellulare di servizio a un cellulare privato oggi si può fare anche con lo stesso cellulare come mi insegnate bene allora questo problema è importante ed è uno dei temi su cui penso che questa comunità che è una comunità importante ampia che vede è l'unica credo comunità che abbiamo che vede assieme università e centri di ricerca guardate io ho fatto presidente del gruppo di ingegneria informatica ho girato ovviamente molto meno di Luciano che ha visto la cosa da un'ottica più alta quindi da politico e da presidente dei rettori però vi posso garantire che una comunità così ampia che metta assieme diciamo ottiche diverse della ricerca e della didattica non esiste secondo me quindi questa comunità si deve sapere interrogare deve cominciare a porre a farsi sentire su queste tematiche perché perdere questo treno guardate è molto semplice oggi con le economie che fanno le università pensare di risolvere i propri problemi con un abbonamento che paghi e chi si è visto si è visto questo è un perdere conoscenza un perdere creatività quindi è un punto estremamente delicato il tempo passa vi voglio fare vedere un poco di cose diciamo anche storiche e qualche dettaglio ben preciso scusate mi seguo perché mi viene più semplice allora questi sono diciamo gli elementi del progetto quindi guardate i proponenti non potevano essere 67 più 3 70 soggetti Crui parlavamo con Luciano ma Crui chi rappresenta cioè Crui in rappresentanza di 77 università 67 università ma non era sancito cioè è stato fatto credo un accordo esplicito in Crui in cui i rettori aderivano davano a Crui il mandato di rappresentarli in questo progetto CNR NEA INFN sono 30 di ricerca istituzionalizzate non avevamo problemi obiettivo è quello là dopodiché obiettivo del progetto Gabir l'ha detto Luciano io qua c'ho dei passaggi presi dai documenti ufficiali questi sono degli ci sono dei passaggi veramente impressionanti visti oggi cioè apertura al Mediterraneo apertura al mondo internazionale apertura diciamo proprio quello che caratterizza il significato di una comunità accademica che non è un oggetto chiuso è un oggetto estremamente aperto ecco in tutti i passaggi che spiegano perché il progetto questi punti sono documentati non ve li sto a leggere tutti perché ovviamente la cosa si fa a lunga è l'evoluzione eccetera dunque Gart nasce nel 1987 Gart può celebrare i suoi 30 anni ok dall'87 a oggi praticamente 30 anni sono pochi e sono molti in termini tecnologici è tantissimo 30 anni di tecnologia è l'infinito nell'area dell'ICT quindi tenete conto che nel bene e nel male questa comunità è stata galla per 30 anni in una situazione che ora vi faccio vedere estremamente critica va bene vado veloce su questi perché sono notizie che anche in precedenti presentazioni che sono state fatte vi potete trovare vi faccio vedere delle cose ecco agenzia Aurora si prevedeva una struttura organizzativa allora si era chiamata Aurora bene oggi si chiama consortium e questo era previsto un'organizzazione del genere qual è il rischio di questa cosa? quando il progetto è nuovo e innovativo tutta la comunità è in crescita c'è gente che lavora c'è entusiasmo quando si va sull'agenzia l'agenzia rischia di diventare un provider state attenti consortium non è un provider non è un normale provider che dà connettività alle università è il punto avanzato dell'innovazione sull'ICT relativamente al networking quindi trasformare il consortium in una semplice struttura operativa di servizio di provider potete farlo benissimo ci deve anche essere questo aspetto ma non ci si può scordare dell'importanza di avere che cosa? l'innovazione in questo consortium perché il consortium non è un che ti posso dire il Cineca visto come gestione della segreteria studenti non la parte più di ricerca e calcolo parallelo per le università non è un servizio perché i servizi oggi i provider ve li veramente ve li possono dare a condizioni certe volte loro dicono migliori bene loro dicono quanti enti erano coinvolti? 33 enti se mi dicessero vorresti fare di nuovo questo progetto lo vorresti coordinare beh vi direi da un lato sì da un lato no ragazzi 33 università ora vi leggo qualcosa di Valeria Rossi è Valeria io sapevo che c'eri quindi ho trovato Valeria Rossi era lei si è definita tutor era stato è stata nominata come revisora del progetto e ha chiuso il progetto nel 2002 io ho tutte le mail che Valeria mi mandava e ho la prima mail che sta qua messa che ci siamo scambiati bene avere a che fare con 33 università e enti di ricerca credetemi voi sapete bene che cosa vuol dire un manicomio quindi 18 erano in area obiettivo 1 cioè significa che le proprio depressi siamo in obiettivo 1 15 in area obiettivo 2 e 5B erano quelli più al centro nord meno depressi quindi noi qui ci sentivamo veramente i poveri che dovevano come si dice il reddito di cittadinanza l'obiettivo 1 era tu mi erassi sordi pronto questa era la logica poi il progetto 30 miliardi di lire e 6 miliardi di IVA ogni volta che vedo questo dico ma è mai possibile che per beneficenza ricerca eccetera ma pagare l'IVA 6 miliardi di IVA ragazzi è una cosa allucinante si devono girare le università l'IVA la cacciano e non la pigliano è chiaro è un costo secco una tangente allo Stato rispetto ai soldi che ci ha dato esagero però questo è un punto importante una volta sì ho finito allora aree territoriali interesse sono queste qua ovviamente sono le università che sono state viste questa è la distribuzione dei finanziamenti per università e scusate il nucleo il GAR aveva un nucleo tecnico NTCG di cui Orio Carlini ho messo Presidente no Orio Carlini era il segretario il Presidente era Blasi Paolo Blasi scusatemi ma ricordavo male i nove membri che stavano là dentro e che hanno definito il progetto GARBI sono Pugliafito Guido Russo Mazzia Antonino Bombi Francesco eccetera erano le persone che ovviamente tiravano fuori e che hanno cacciato questo documento che poi è stato passato in crui con tutte le traversie ed è stata fatta diciamo questo tipo di diciamo di progettazione 73 delegati di università come diceva Luciano 4 delegati erano degli enti questo è la bozza del progetto il primo documento diciamo che è datato 8 gennaio 97 questo è il primo foglio di questo progetto ve l'ho messo qua ricordo che queste sono 24 pagine sono 14 pagine più 6 pagine di tabello un progetto di 130 passa miliardi fatelo oggi così e vedete dove andate la burocrazia di oggi ci mangerebbe bene questo è il disegno concettuale della rete Garbi che è stato fatto nell'OTG nel comitato tecnico e questo è il primo disegno diciamo simboleggiato che poi è diventato dopo che il progetto è partito il disegno che è proiettato in Gar lo trovate se andate nel consorzio trovate questo disegno nelle fasi storiche di Garbi però proviene da questo qua ok dopodiché questa è la lettera di Valeria Rossi scusate ve la voglio leggere perché è tenetissima questa lettera gentile dottor Mazzeo cioè già mi ha fatto un cazzare quando ha visto dottor Mazzeo io ero giovane avevo fatto tanto per diventare professore mi chiamava dottore sono ingegnere mi chiamava dottore e non mi chiamava professore quindi ho detto ma chi è questa va bene allora dice sono Valeria Rossi scusa è privacy però la posso leggere e sono stata nominata tutor del progetto 2 di Garbi ho ricevuto la nomina ufficiale accompagnata dalla relativa documentazione solo pochi giorni fa e vorrei prendere contatti con lei per poter procedere con l'attività e inoltre ho visto che sul vostro sito web vi è tutta una larga descrizione del progetto e vorrei chiederle se è possibile sempre che è sensato diciamo poter accedere a queste cose qua la pregherei di mettersi in contatto con me io ho cercato di contattarla a 348 con un numero sbagliato diciamo e quindi non mi trovava ringrazio anticipatamente Valeria Rossi è nata la revisione del progetto con Valeria seguita poi tutta una serie di attività in cui Valeria certe volte è contenta certe volte si lamenta ma non per noi perché poi a mandare a Valeria i documenti non sono le singole università io coordinavo solo questo giro questa cosa si è chiusa con la relazione finale di Valeria Rossi che è stata a queste parti nel 2002 ok perfetto detto questo questo lucido ho quasi finito io ho voluto fare e l'ho fatto vedere a Luciano ho voluto mappare qui i presidenti del consiglio e i ministri della ricerca scientifica successivamente pubblica istruzione cominciamo nell'87-92 presidente Coria Ruberti il gigante così è guardate qua a destra ci sta l'evento importante nel periodo Ruberti parte l'avvio di Gar il rosso dopodiché abbiamo Fontana Berlinguer 4 mesi 5 mesi è stato un passaggio veloce vedete quanti presidenti del consiglio si succede Umberto Colombo che è stato un tecnico messo là proprio a garanzia è presidente del CNR storico Salvini Berlinguer Luigi comprò di uno qui comincia un'epoca di due anni e mezzo circa Berlinguer è stato 96-98 credetemi è tutta la cosa che ha raccontato Luciano qui abbiamo l'altro picco importante di Gar dopodiché che cosa dopodiché comincia a una certa discesa e con un altro ministro esperto stiamo parlando qui Rettori che è Profumo quindi con tre Rettori noi abbiamo avuto tre picchi l'altro è Profumo che ha fatto Pongarix Progress e Rimic i due PON cambia la tipologia di finanziamento si complica la burocrazia però abbiamo comunque fatto questo dopodiché i ministri sono Carrozza Giannini Fedele e Bussetti mi è saltato Mussi non so perché è stata da qualche parte me lo so scoperto Mussi sta esatto sì perché mi è saltato la riga quando facendo le cose c'è un Mussi che manca non è successo niente niente ok bene questo è lo stato dei fatti non faccio valutazioni politiche però dico solo una cosa se dovessi fare da diciamo scienziato una correlazione io dico se c'è una cosa buona ci dovrebbe essere un rettore come ministro dell'università è limitativa però ha funzionato questo è il tutto ho quasi finito completamente e questo non ve lo dico vi voglio solo fare l'ultima considerazione progetto Rimic questo è avviene di recente sono i due PON uno grosso di GAR e uno delle reti metropolitane che abbiamo fatto a Napoli è un progetto che è stato presentato nel 2011 per una rete regionale la rete è in essere c'è la società Rimic prevista dai fondi strutturali che deve che è per la gestione del progetto ed è un backbone 13 milioni e 4 di euro ed è un backbone ve lo faccio vedere un backbone non regionale con potenziamenti locali voglio chiudere perché di lucidi ne ho nascosti tanti ne ho tanti perché facendo la cronistoria ho portato dentro un po' di materiale però ve lo lascio con una piccola riflessione quando si pensa alla rete ai servizi di rete bisogna pensare ai destinatari e bisogna pensare che i destinatari devono nel mondo della ricerca devono sono destinatari che pretendono l'INFN trasferisce marea di dati e altri ricercatori fanno passare un sacco di dati per altri motivi altri fanno simulazioni altri fanno interattività multimedialità oggi ci sono molte esigenze di avere banda ma non solo banda oggi noi abbiamo bisogno di servizi qual è il vantaggio di queste tecnologie abbiamo usato i Rimici ma anche i Codingarix quello di avere una veloce riconfigurabilità della rete per adattarle alle applicazioni siamo in grado di poter adattare in poco tempo anche in un'ora in un giorno con un buon centro di governo e monitoraggio la rete ha le esigenze che via via dinamicamente si presentano resta tutta la parte nuova del networking che vede diciamo networking più spostato in una logica software se volete piuttosto che di fibre e fili che sono indispensabili sì ma non sono l'unico elemento che serve per fare il networking con aggiunta l'altro grande problema che vi invito a considerare stabilmente che è il problema della sicurezza perché con la sicurezza oggi non si scherza non sono solo gli attacchi che ci fanno per bloccarci ma la sicurezza dei dati che noi teniamo che sono dati di valore e ci sono persone che sono diciamo ne hanno interesse o a distruggerli o a prenderseli ok vi ringrazio scusatemi ma io più diciamo è molto difficile prendere 10-15 anni della vita e sintetizzarle in 20 minuti grazie Lino anche due rispettati i tempi quindi più o meno siamo in orario adesso chiamiamo la Valeria Rossi la qual l'abbiamo sentito è stata revisore del progetto terzo reti metropolitane di Garbi e attualmente direttore generale del Mix Mix IT Milan Internet Exchange ed è stata anche se non ricordo male responsabile dei NOC in Garbi vero? brava ebbene non so da dove a partire dove agganciarmi perché ne ho sentite diverse e parto da Antonino innanzitutto la buona notizia Antonino è che io pur essendo una persona disordinatissima proprio a seguito di questa chiamata per oggi ho scoperto di avere dei faldoni dove c'è dentro tutto 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 quello che riguarda Garbi Man per cui addirittura ho trovato documentazione e se volete te la mando la mando a Gar ve la do ve la do anche perché è lì e ho conservato tutto e così tanto per partire mi viene da dire che forse una delle poche cose che ha funzionato e rimasta stabile dagli anni da quegli anni fino ad adesso è la portabilità perché il numero di telefono segnato sulla mela è ancora mio ed è ancora valido per cui lo sto ancora usando io vabbè ho un background mi sento un pochettino a disagio in questo momento sono davanti a tutti i grandissimi fondatori della rete quelli che hanno fatto Gar tutti questi livelli di cui parlava se Antonino Mazzeo era al quarto livello della pila io lavoravo a un sotto livello della pila nel senso che ero proprio funzionale sì sì ma infatti a livello funzionale ero proprio livello operativo tecnico sono stata coinvolta adesso ho 18 anni che mi occupo diciamo in un ambito più privato però ci tengo professor Modica a dirle che è un privato sì ma mica tanto per cui è un privato che fa non è un progetto abbandonato e anzi va nella direzione di quello che io ho imparato con Gar io ho iniziato a lavorare per il Cilea che era il consorzio delle università lombarde che adesso forse a loro mare in cuore si chiama Cineca però e quindi ho avuto l'opportunità di cominciare a lavorare proprio nel momento in cui Gar partiva era già un progetto avanzato e io mi sono trovata a cominciare ad occuparmi proprio nella fase in cui da tante isole che si erano create all'interno delle università si voleva fare una rete diciamo condivisa è stata per me io ho avuto una grandissima fortuna di entrare in quel momento io credo anche molti altri qua presenti vedo un sacco di fagli io mi sento a casa quando vengo a parlare con voi perché è stato veramente il periodo di formazione a livello professionale a livello sociale e anche palestra di vita perché avendo a che fare con così tante persone di tutte diciamo le estrazioni ma comunque di altissimo livello perché comunque sempre università e ricerca è stato per me che partivo sicuramente è stato il momento in cui mi sono formata ma non solo professionalmente anche come approccio che è un approccio che io di fatto ho ormai insito come DNA e che porto avanti anche oggi come mix poi su mix magari spendo due parole per farvi capire bene questo aggancio e per cui in quel periodo va bene mi ero occupata della parte operativa abbiamo messo in piedi la rete Garbi e poi per motivi logistici ho dovuto lasciare gare e spostarmi su Milano e sono entrata in mix tenete conto che avevo una ritrosia di andare a lavorare nel privato veramente forte perché per me il privato era come appunto ha detto anche il professor Modica un insieme di soggetti troppo pro business e poco pro comunità mix tutto sommato mi sembrava un buon compromesso e appena sono partita proprio pochissimo pochissimi mesi dopo sono stata chiamata come appunto supervisore del progetto Garman e lì è stato un altro episodio importante queste reti che si stavano creando io non ho capito perché abbiano chiamato me non me lo ricordo ci sarà stato un motivo ma non lo so cantore ecco cantore allora direttore del Cilea esatto e ho avuto a che fare con un'altra realtà ancora perché comunque se conoscevo la realtà della rete come rete nazionale non conoscevo di fatto bene ciò che avveniva a livello metropolitano in quell'occasione quello è stato per esempio per me un episodio positivo nel valutare come soldi pubblici venissero spesi in modo corretto avevo già l'esperienza di Gar in questo senso perché non mascheriamoci dietro a una foglia non sempre fondi pubblici vengono spesi nella maniera nella direzione utile al progetti per cui sono stanziati Gar ne è un esempio palese in quel periodo anche tutte le man che vennero e io lo toccai con mano perché come supervisore del progetto dovevo anche fare le pulci per come venivano utilizzati i fondi se venivano spesi esattamente per quei progetti capire le motivazioni dei ritardi ritardi essenzialmente dovuti al fatto che le tecnologie ovviamente il progetto ha avuto dei ritardi la conclusione dei singoli progetti però anche dovuti al fatto che le tecnologie cambiavano per cui c'erano dei rimodellamenti e quant'altro con Antonino che già oggi ho saputo era già scocciato perché avevo chiamato dottore in questa mail quando ci siamo visti la prima volta Antonino noi non ci conoscevamo io lui era giovane io ero ancora più giovane sono arrivata a Napoli me lo ricordo con un faldone così e Antonino pensava di chiudere la riunione in una mezz'oretta un'oretta quello era il tempo che si era allocato un po' della serie ma che vuole sì vabbè insomma noi stiamo facendo delle cose grandissime sì queste cose si fa io ho detto ma io veramente chi mi conosce sa che sono un po' rompiscato io veramente comincerei da pagina 1 la faccia di Antonino non la dimenticherò mai e io pagina 1 progetto per progetto ho cominciato ma questo perché questo così questo cosà eccetera eccetera però con questo sistema ho avuto modo di capire veramente che le cose si stavano facendo poi per carità anche lì ci sono state anche delle situazioni in cui diciamo alcune spese erano un po' borderline alcune università erano ancora troppo dipendenti da telecom per cui c'erano delle situazioni un po' faticose da gestire però le cose sono andate in porto e le cose hanno funzionato quindi quello è stato sicuramente un passaggio mi è venuto in mente l'altro giorno leggevo un articolo una intervista all'Elisabetta Ripa che oggi è l'amministratore delegato di Open Fiber che tra le varie vantava virgolette il fatto che stavano stendendo fibra da tutte le parti utilizzando addirittura le reti degli acquedotti e a me è venuto in mente proprio a livello di Garman mi pare le università di Bari che avesse utilizzato quindi parliamo di tanti anni fa le fognature ecco e quella quello che oggi viene visto per ispezionare per ispezionare l'immagine per cui qualcosa che oggi viene lanciato come guardate che cosa stiamo facendo in realtà come al solito basta usare un po' la testa e questo consesso è esempio di come viene usata correttamente la testa secondo me per la mia esperienza ripeto io rispetto a tutti voi sono però ecco appunto è stato fatto magari è stato pubblicizzato meno noi lo sappiamo qualcun altro non lo sa tra l'altro ci tengo a sottolineare un concetto che Antonino ha ripetuto più di una volta durante il suo intervento questa rete non è una rete cioè intesa come rete fine a se stessa questa rete è un servizio per cui quando anche io ero al Cileat oppure anche quando lavoravo per Garbi eccetera talvolta si sentivano alcune lamentele da parte delle università che dicono insomma certo che però l'accesso a Gar è più caro rispetto all'accesso che mi dà X o Y stile di operatori privati ma non è la stessa cosa non l'ho mai stata Gar è un ecosistema che fa parte di un ecosistema ed è un modello in Italia che non esiste e credo che esista all'estero perché è grazie a questo ecosistema che la ricerca riesce a parlare con gli altri ecosistemi di tutto di tutto il mondo con tutto quello che Gar in collaborazione e condivisione con tutte le altre reti della ricerca ha fatto questa è una cosa importante perché io che lavoro in un ambito proprio con gli operatori per me oggi la mia interfaccia non sono più le università sono gli operatori privati operatori dove ci sono attenzione delle grandi eccellenze a volte no a volte no però ci sono delle grandi eccellenze e che stanno facendo un percorso creando un sistema molteplice in Italia utile essenzialmente sì certamente ognuno fa il proprio business però utile a che cosa a creare più infrastrutture di trasporto per dare non solo più resilienza ma per abbassare cioè laddove c'è la competizione i prezzi del trasporto si abbassano questo è un paradigma ovvio il fatto che ce ne siano tanti e lì ecco sono contenta di aver lavorato per Mix perché Mix è un volano Mix come internet exchange non Mix perché Mix come Milan internet exchange gli X in generale sono un volano della creazione della molteplicità e dello sviluppo di più soggetti che vuol dire creare competizione dove c'è competizione i prezzi si abbassano e qual è il vantaggio immediatamente successivo all'abbassarsi dei prezzi di trasporto aumentano i processi di digitalizzazione questo è è dato è un dato di fatto in Italia abbiamo tantissime PMI le PMI del centro sud sono ancora un livello di digitalizzazione basso la collaborazione sicuramente tutto quello che a livello metropolitano regionale è stato fatto a livello della ricerca in collaborazione probabilmente col privato potrebbe portare ad aiutare un processo di digitalizzazione maggiore dove con questo si intende una non togliere posti di lavoro ma secondo me semplicemente rendere più efficiente e quindi più produttiva l'azienda abbassando i prezzi del trasporto noi possiamo aiutare affinché dotarsi di nuove tecnologie e anche innovazione e poter accedere ad applicazioni innovative aiuti la crescita digitale del paese questo da un lato e dall'altro naturalmente c'è il grande problema in Italia del fatto che l'Italia è distribuita abbiamo delle grandi aree metropolitane lo sappiamo e poi ci sono mi pare che siano più di 7000 comuni che hanno meno di 10.000 abitanti e un operatore non ci va lì non ci va perché non ha un ritorno economico e allora ecco benvengano i piccoli operatori wireless che con accordi poi con operatori diciamo che stendono rete fissa in fibra riescono a portare ad aumentare la banda e portare banda larga anche in quelle aree noi viviamo cioè lo scopo del mix che ripeto è un'azienda privata però ha un approccio che è l'approccio che io ho imparato a GAR che è l'approccio della condivisione di mettere a fattor comune delle risorse e non vi nego che comunque per quanto sia un mestiere che è utile allo sviluppo di tutti che è utile per velocizzare lo scambio di traffico che è utile per lo sviluppo al contorno caspita l'area milanese non solo per mix un po' perché dotata di suo per storia perché tutto quello che volete però anche per mix si è sviluppata moltissimo questo modello è un modello che noi adesso abbiamo imparato abbiamo fatto a Milano adesso ci siamo sparsi un po' sul territorio diciamo non regionale ma a livello ampio metropolitano questo per mettere sempre a fattor comune risorse che esistono e che dobbiamo utilizzare lo stiamo cercando di portare anche laddove ancora non esisteva proprio niente questa cosa la dico perché Antonino ha nominato la parola apertura sul Mediterraneo ecco questa apertura sul Mediterraneo quando io anche quando ero a gara abbiamo sempre parlato il contatto con le reti della ricerca d'oltre mare e quant'altro io personalmente venendo da questo mondo e avendo questo approccio dove ho imparato la creatività e dove ho imparato anche a sfidare un pochettino certo non so Stefano Suina adesso non lo vedo qui nominato prima ha fatto delle azioni a livello di Pisa che sembravano follia io a un certo punto insieme ad altri abbiamo detto ma perché non facciamo una cosa come quella che abbiamo fatto in Milano la facciamo nel sud sviluppiamo le aree del sud proviamo a vedere se mettendo un cicinino al sud qualcosa succede naturalmente su un progetto che ha un respiro a livello internazionale proprio per le aree che sono che arrivano dai paesi del nord africa del medolista e quant'altro però anche con l'idea di svilupparsi sul territorio questa cosa che non è facile tanto quanto è stato facile Mix era in una situazione di geografia delle reti molto più semplice perché era già attiva però si sta sviluppando quindi qualcosa non solo cioè portando l'esperienza dei modelli già acquisiti e soprattutto valorizzando le collaborazioni tra pubblico e privato vedo che qualcosa si muove qualcosa di importante laddove io pensavo sinceramente che non ci fosse praticamente niente e ancora dobbiamo convincere tanti a capire che qualcosa c'è e che qualcosa si muove e l'interesse sul Mediterraneo è molto ampio e voi lo sapete benissimo adesso non voglio parlare di massimi sistemi politici perché non è mio mestiere però oggi l'Italia per esempio con questi accordi che ha preso con la Cina all'interno della famosa nuova via della seta una volta Roma era il centro ma perché c'erano vie terrestre adesso questa nuova della seta avete visto le ultime notizie verrà diciamo come punto d'atterraggio quantomeno per la parte commerciale eccetera viene portata sul Trieste Veneto mi pare Liguria bellissimo e perché non al sud perché di nuovo si è perso un treno perché di nuovo la Cina non è riuscita a trovare quella situazione comoda e utile nel sud che poteva far diventare il sud il centro di attrazione per questo nuovo dove c'è commercio ci sono infrastrutture e quindi probabilmente in questo senso potremo ancora fare qualcosa questa è comunque un po' la situazione che io vedo al contorno gli operatori che cosa chiedono maggiore collaborazione da parte del pubblico e anche incentivi incentivi a poter investire per poter abbassare i costi di accesso e di trasporto quando ho fatto ho partecipato al progetto Garbi appunto cercando tra le varie carte in una delle mie relazioni questo è del 24 ottobre 2002 ho trovato questa frase che di fatto era valida allora ed è valida oggi nella mia testa parlavo del discorso della delle osali metropolitana ad altre prestazioni nelle zone geografiche considerate fino a qualche tempo fa meno prioritarie eccetera eccetera con specifica attenzione a questo punto la necessità di creare infrastrutture avanzate in ambito degli enti di ricerca locali di cui partecipanti va appoggiata ed anzi auspicata affinché non si creino isole tecnologiche incapaci di evolvere naturalmente verso un'interoperabilità affidabile tra applicazioni avanzate sia nell'ambito della ricerca che in ambiti più ampliati fra pubblico e privato il concetto che avevo espresso allora ho finito il concetto che avevo espresso allora ce l'ho forte molto ben presente adesso la collaborazione fra pubblico e privato mettere a fattore comune risorse esistenti che siano data center che siano infrastrutture fisiche tanto è cambiato nella tecnologia lo sappiamo le reti ottiche oggi supportano velocità che ai tempi ancora di Garbi proprio ce lo sognavamo ci sono nuovi attori sulla rete ci sono forse anche nuove opportunità magari OpenFib stessa non lo so fino a che punto riuscirà ad essere una vera opportunità per la rete gare e per le reti private però una forte stringente collaborazione fra pubblico e privato resta fondamentale in un paese che troppo spesso e a me avvilisce questo perde dei treni e perde delle opportunità e rimane indietro rispetto ad altri quando non ha nulla in meno da vantare rispetto agli altri paesi questo è il mio pensiero grazie grazie Valeria andiamo al prossimo relatore che è Stefano Suin dell'Università di Pisa coordinatore di Serra e con Pierazzini con Giuseppe Pierazzini o Beppe Pierazzini e Paolo Catorelli il vero autore della prima rete metropolitana in fibra questo non serve interrompi allora presentazioni qua sopra buongiorno a tutti dunque io condivido un po' il sentire di Valeria nel senso mi sento un po' ogni imbarazzo di fronte a persone che hanno fatto così tanto per le reti in Italia non sto parlando soltanto le persone a mia destra ho visto con piacere altre persone che sono state in quegli anni diciamo gruppo trainante per le reti sto parlando il laurea il gruppo del cruce in questa ottica diciamo la nostra esperienza è un piccolo tassello e non me ne vogliate ok non me ne vogliate temo Massimo di aver nuovamente sbagliato il taglio della presentazione che a me comincia a diventare una costante che mi in qualche modo mi perseguita io da tecnico non posso fare che un excursus tecnico della rete spero di cerco di solvolare la parte più tecnica cercando di un po' di allinearmi con i miei presenti relatori e stiamo andando ovviamente in maniera inversamente proporzionale più importanti a quelli che hanno rappresentato veramente un piccolo tassello però dunque neanche voglio come diceva Luciano fare una commemorazione per carità però certamente un ricordo a Giuseppe è doveroso e lo accompagno con le parole di Enzo che mi sembrano che in questo contesto detta la sua scomparsa fosse un miglior ricordo che diciamo potessimo potessi presentare in questo laggiù in fondo c'è anche un puntatore laser questo no non ce l'ho di più e questo questo non funziona va appicciato bene col distino piccolo è uguale ok senti faccio così io con le tecnologie io non ci sono molto sì ma non voglio fare le esperienze di Roma che senza occhiare vedo più lontano alla destra vedete la prima diciamo non so se si vede ma insomma è una prima lapidina del primo attraversamento che è stato citato alessandro peraltro peraltro che per la sinistra sfruttò un cunicolo che fede nel 75 fece come presidente la loro presidente del CNR per collegare sul suolo pubblico la sede del CNR con la sede dell'università ed è stato il primo attraversamento che è stato fatto diciamo nel non mi ricordo ma nel 92 penso nel 93 quindi grazie Giuseppe andiamo avanti il vero elemento ispiratore di questa rete questo è lo stato ah da tecnico al solito cerco di raccogliere anche il messaggio che mi ha dato Massimo nel senso l'escurso tecnico riguarda il passato mi soffermo sul presente ma poi mi è stato chiesto anche di provare a stimolare la discussione su quello che può essere il futuro delle reti metropolitane per chi non ce l'ha per chi ce l'ha cosa ci fa e che tipo di ruolo possono rivestire diciamo in un panorama di telecomunicazioni nazionali questo è lo stato infrastruttore della rete sviluppato più a nord perché l'Unistai è più a nord sono 9400 km di fibra lo stesso lucido che presento mai dal 2000 perché poi questo è lo stato agli anni 2000 che abbiamo finito dopodiché ci siamo cessate poche evoluzioni da questo punto di vista vi ricordava Luciano all'inizio i normativi dunque c'era una normativa europea che in qualche modo permetteva infatti di trasmissione la possibilità di crearsi delle infrastrutture proprie del 90 nel 95 c'è stato il disciplinamento della direttiva da parte del governo Dini nel frattempo quindi fra il 90 e il 95 è stato il periodo in cui Paolo bene o male quasi sempre di notte stendevamo questi questi cavi aprendo tombini avevo anche delle foto ma insomma non volevo poi essere troppo ed era il periodo in cui Luciano era preoccupato perché effettivamente eravamo in un limbo mi ricordo una volta che ero alla Repubblica Marinare e incontrasti Paissane e telefonasti a parlo dicendo siete sicuri che non vado in galera e Paolo tranquillo non ci beccherà mai nessuno vabbè dal 95 abbiamo steso un po' di roba non si può dire ma insomma bene o male eravamo in un momento in cui Telecom ancora ci facevano in prescrizione fu anche l'epoca delle scelte tecnologiche la più bella la fisce Paolo nel senso utilizzando apparati monomodali ottici che per l'epoca era una follia perché la parte ottica costava e adesso siamo ancora qui a goderne i benefici di questa cosa perché all'epoca era troppo più semplice sarebbe stato scendere la fibra ottica multimodale sarebbe costato meno ma ora non avremmo avuto più la possibilità insomma degli scenari che si sono aperti e continuano a aprirsi adesso già all'epoca si parlava di reti triple play quindi c'era la necessità di portare sulla rete diverse tipologie di traffico e c'era ancora la reti a connessione di circuito e reti a connessione di pacchetto quando ci rendiamo conto che effettivamente la gestione di diverse tipologie di traffico in qualche modo implicava la necessità di una connessione di circuito facemmo la scelta molto avversata sempre in un'ottica costruttiva di costruttivo confronto di ATM avevamo anche chiaro che l'IP era una cosa da cui non ci si poteva staccare e fu così che in qualche modo adottammo la prima rete prima proprio in Europa perché si fece con Norte di IP over ATM che consentiva bene o male avere un'infrastruttura comunque garantisse prediscibilità dei traffici qualità di servizio ma all'interno tempo potesse sfruttare i benefici dell'IP ben presto fu anche chiaro perché poi Giuseppe andava in giro quindi raccattava sul territorio cittadino diverse istituzioni dalla prefettura tribunale alla questura quindi anche diciamo comunità che avevano assolutamente criticità e caratteristiche diverse l'una dall'altra e fu presto chiaro che sarebbe stato necessario utilizzare delle reti che in qualche modo rappresentassero in maniera virtuale la comunità che gestiva e lì si presentò anche lì fu una scelta abbastanza innovativa ma fortunata se vogliamo si presentò su un piatto di agente all'isprimitare l'MPLS che ci consente di passare da reti nativamente a commutazioni di circuito a neti che bene o male i circuiti li permettevano ma erano IP si perse un pochino della qualità di servizio perché si passò a classe di servizio insomma si perse un pochino tecnologicamente ma ci permise in qualche modo di adottare tecnologie di virtualizzazione basate su una PLS che ci consentirono un grosso fattore di scalabilità per quell'epoca questa è la rete del 2004 assai complicata perché era nata per stratificazioni successive ma è una rete comunque basata qui anche grazie a Valeria che ci aveva insegnato cos'era il BGP quali erano le potenze dei protocolli del livello 3 una rete basata sempre del livello 3 abbastanza complicata come una PLS però insomma che riusciva a raccogliere in sé diverse istanze diverse e diverse realtà diciamo conviventi sulla stessa rete quando poi in maniera assolutamente devastante le soluzioni di cloud sono imposte sul mercato abbiamo avuto un'altra necessità quella di trasformarci da network provider noi abbiamo sostanzialmente connettività a anche cloud più network provider cominciarono a nascere i data center e inizialmente ovviamente le abbiamo agganciati come foglie alla rete poi ci siamo posti il problema di come gestire la diversa tipologia di traffico che caratterizza un cloud datacente cioè il traffico est-ovest e quindi far condividere diciamo far convivere sulla rete questi due mondi che di per sé poi sono abbastanza cioè è facile essere un network provider facile è semplice essere un network provider essere semplice essere un cloud provider fare tutte e due le funzioni non è poi così scontato all'epoca avevamo 174 che io ho chiamato micro data center ma erano sostanzialmente dei locali in cui si faceva concentrazione di rete siamo riusciti con difficoltà a riaccorpare data center soprattutto nel nostro green data center io ci ho messo un po' di dati ma insomma non è questo il topic della discussione ma insomma è un data center che comincia a avere una sua come posso dire la sua identità perché stiamo parlando di 10.000 core quindi un 1.3 pu è misurato e quindi diciamo abbiamo cominciato ad accorpare in questo data center le funzionalità del clouding allora questa è una slide che in qualche modo rappresenta il presente c'è una il puntatore sono sicuro che non lo ritrovo ecco questa è la parte di backbone a cui sono agganciati diciamo i data center connessi da una rete in qualche modo che interconnette e poi la necessità di dover servire diverse istituzioni con servizi che vanno dall'infrastructure as a service platform as a service che sono quelli standard diciamo che vengono dati da cloud e avevamo diciamo posti il problema di come portare i servizi fino agli utenti utilizzando accesso e backbone allora studiando un pochino le possibilità io questo affare mi cipicchio mi cipicchio perché sono troppo vicini i pulsanti allora la prima riflessione che viene quasi scontata è che gli ambienti virtuali dei cloud hanno una flessibilità assolutamente superiore a quella che hanno le reti e quindi far convivere le reti con il cloud significa dare alle reti quelle caratteristiche di flessibilità e scalabilità che diciamo per loro natura non hanno la prima cosa che in qualche modo la prima riflessione quindi è stata quella di partendo dal modello del 2004 cominciare a sgrossare la rete semplificarla il più possibile e renderla scalabile questo perché adottare tecnologie di software defined network un modello come quello avete visto prima è praticamente impossibile quindi semplifichiamo la rete portiamola a un livello di gestibilità sufficiente e a livello diciamo virtuale portiamo la logica dell'intelligenza delle rete a un livello virtuale il che poi di fatto si è tradotto nell'adozione di modelli che fossero spine and leaf quindi sostanzialmente avvicinare gli utenti alla rete evitare che il traffico fra gli utenti e fra le macchine facesse poco tra facesse poca strada e che soprattutto ci fosse la possibilità di sfruttare la banda di rete in maniera affidabile e tutti questi link dovrebbero essere tutti attivi quindi schiacciare la rete dagli utenti fino all'intelligenza con delle keywords che sono ovviamente quelle che stanno guidando il mondo delle rete in questo momento cioè alta affidabilità latenza e vedremo perché la latenza sarà uno dei fattori fondamentali nel diciamo nel disegno delle reti sicurezza che questa è la parte normativa da cui si può prescindere e capacità diciamo della rete di rispondere alle esigenze in maniera poco costosa e immediata mi ricordo a Roma mi è stata fatta una domanda nel panel è venuta fuori una domanda molto interessante chi costruisce reti a che servizio deve pensare per per far sì che la sua rete sia uno strumento appetibile allora io avrei la fortuna di rispondere alla ultima ovviamente quindi anche di pensarci ma in realtà è un approccio sbagliato io costruisco una rete e non è che costruisco una rete dopo penso ai servizi con la quale voglio proporre la rete in realtà devo costruire una rete in grado di supportare i servizi che ancora non prevedo se riempi di tà allora per avere una rete di questo tipo d'altra parte l'evoluzione dei servizi e comunque anche del mondo internet è così dinamica che pensare a una rete finalizzata dai servizi è già persa in partenza quindi pensare a una rete che sia talmente flessibile da poter rispondere a servizi che ancora non è diciamo la sfida credo del futuro e che ci porta anche a rispondere alla domanda primigenia cioè io ho una rete metropolitana cosa ci faccio perché poi e se non ce l'ho mi conviene costruirla conviene avere un'infrastruttura propria o non conviene tenendo conto anche della scalabilità dei prezzi di mercato che è profondamente cambiata nel tempo 5 minuti allora in questo modello così salto le cose anche un po' più tecniche in questo modello quindi spine and leaf abbiamo cercato dal punto di vista implementativo riportare la tecnologia spine and leaf sia dentro il data center che sul backbone dentro il data center adottando un semplice multishassi link aggregation fra dispositivi a cui ci aggancio poi le macchine e a livello invece del backbone e questa è una cosa secondo me che non ci sta proprio piacendo utilizzando tecnologie di vpn e sfruttando le capacità delle vpn di creare dei segmenti di rete internet sul territorio abbiamo in qualche modo realizzato un'infrastruttura che declinare la cui architettura si può declinare così quindi uno spine and leaf ancora più potente qui ho messo tre data center perché noi abbiamo tre ma in realtà il paradigma di questo multishassi link tag diciamo risposto sul backbone che ancora non abbiamo definito in qualche modo ma fa sì che ogni istituzione possa essere legata a quanti data center vogliamo con tutti i link active-active e in maniera che la rete sia comunque risponda al modello spine and leaf che abbiamo visto prima 5 minuti questa è la nostra nuova infrastruttura in questo momento abbiamo quindi tre data center abbiamo i due anelli metropolitani 100 gigabit di recente accensione perché li abbiamo accesi ieri e ieri l'altro quindi qui stiamo parlando del diametro di questo oggetto che è di 20-25 km ogni istituzione è legata con diciamo a ogni istituzione che significa un punto di raccolta utente quindi l'accesso del backbone è fatto contemporaneamente tra i data center quindi i tre data center sono connessi con questi anelli metropolitani a 100 gigabit in maniera che il traffico estroves possa essere sincronizzato tra i pod nei singoli data center velocemente allora questo se c'è qualche esponente della corte dei conti noi abbiamo tranquillamente ammortizzato l'intervento questo lo dico certamente la scelta di Paolo di utilizzare fibra ottica monomodale ha fatto sì grazie anche diciamo all'esplosione delle tecnologie di optical light ha fatto sì che l'infrastruttura che abbiamo sia ancora attuale sul territorio e quindi ci consenta ancora investimenti tutto sommato ho messo qui anche due numeri che potrebbero essere anche di interesse al momento questi sono i costi che a nostra esperienza diciamo di scavo di realizzazione dell'infrastruttura proprietaria attuali cioè si spende alla fine si spende 30 euro al metro per uno scavo a cielo aperto e 45-50 per uno scavo in directional drilling più il costo dei pozzetti insomma il risultato è che poi alla fine della storia con 50 ma 50 secondo me anche 40 si fa un chilometro di infrastruttura in un centro cittadino pieno di infrastrutture tenendo conto che le poche istituzioni che ho attaccato con Telecom perché sono proprio fuori dal raggio costano comunque voto per pieno per un 20 megabit 15-16 mila euro l'anno diciamo che a parte il votamento di scatole di realizzarla questa infrastruttura tutto sommato siamo ancora dentro i costi di investimento e di realizzazione il futuro delle man dunque uno che ce l'ha cosa ci deve fare allora bisogna sicuramente fare i conti con l'esplosione dei dati avevo visto un po' di dati oggi vengono prodotti 2.5 questo è un dato che più o meno ho trovato da molte parti quindi bastante exabyte per day negli ultimi due anni è stato generato il 90% dei dati attualmente presenti nel mondo fra poco quasi tutto il traffico sarà machine to machine quindi domani diciamo il traffico uomo macchina sta perdendo diciamo di valore come quantità e dobbiamo fare i conti insomma con traffici che saranno appunto machine to machine siamo a questo punto a 40 zettabyte ma entro il 2020 mi sembra di averlo scritto sì di dati presenti nel mondo tutti questi dati hanno diciamo un solo nome che è l'internet of everything ormai dobbiamo fare i conti col fatto che prima di tutto non ci si può stare fuori perché i grossi modelli di business si basano sul possesso dei dati ma poi diciamo questo esplodere i dati in qualche modo va governata perché poi chiaramente stiamo parlando di una quantità veramente significativa i servizi almeno che diamo noi ma sono quelli standard l'infrastructure platform as a service abbiamo visto che devono avvicinarsi agli utenti perché dobbiamo diminuire la latenza cioè il traffico deve fare poca strada e ovviamente garantire la grande capacità di banda ma questo probabilmente è anche un fattore anche meno importante le parole chiave diciamo che in qualche modo che stiamo in qualche modo studiando sono machine learning e quindi edge cloud cioè cominciare a pensare che questi edge sono alla fine vanno a spostarsi verso gli utenti quindi dopo un'opera di centralizzazione in realtà assistiamo a un'opera di decentralizzazione quindi con una rete strutturata a tre livelli in cui l'intelligenza del cloud l'intelligenza della rete sta nel cloud principale il servizio viene portato a un livello intermedio quello che viene definito fog computing dove i fruitori sono indifferentemente istituzioni piuttosto che dispositivi piuttosto che utenti è interessante ma non è il momento perché mi stanno già massacrando la scelta dei processori perché un'altra cultura che siamo fatti è che non tutti i processori sono uguali cioè è inutile avere una rete ad alto livello che gestisce VXLAN e VPN poi il processore è scemo e per poterlo terminare deve fare sette volte di passare la stessa cosa quindi processori più intelligenti nella parte cloud centrale e processori meno intelligenti nella parte fog ovviamente si stanno sviluppando anche frontiere nuove di ASIC completamente programmabili questo ancora allo studio ma mediamente abbiamo cercato di appunto di portare l'intelligenza delle rete e quindi anche la scalabilità a livello più alto e il pompaggio cioè la diciamo la grande capacità invece vicina agli utenti la riflessione che viene a questo punto naturale è che chi possiede una MAN in realtà la MAN diventerà il nuovo data center cioè la capacità di accentrare risorse di calcolo e di spostare poi i data center vicini agli utenti farà sì che la stessa MAN ti dia la flessibilità per poter distribuire il data center vicino agli utenti questo ovviamente è frutto di riflessioni ci sono anche un po' di ringraziamenti in basso riflessioni che stiamo facendo con vari attori di mercato con chi ha la visione delle reti ma mediamente potremmo concludere che la flessibilità di un'infrastruttura propria ci consentirà in questo breve passaggio abbiamo visto almeno 4 salti generazionali la rete è sempre la stessa è sempre la stessa da 20 anni e ha retto cambi generazionali ma modelli di relazionare di rete senza nessun problema ovviamente poi anche le tecnologie sono venute incontro ma io penso che poi alla fine anche questa scommessa dell'internet rating avendo una propria infrastruttura e la possibilità di potersi gestire un'infrastruttura di rete così flessibile e distribuita sto parlando chiaramente in ambito cittadino stiamo parlando di rete metropolitane non so se declinare questo discorso nel regionale o nel nazionale possa avere la stessa valenza però certamente diciamo non disconosciamo quanto abbiamo fatto fino a oggi anzi si aprono anche nuovi scenari futuri molto interessanti io dovrò consegnare a qualcun altro perché prima o poi dovranno andare giardinetti anche io però mediamente diciamo siamo contenti di quello che abbiamo fatto grazie allora ci avevamo cinque minuti di avanzo cinque minuti li rubiamo al pranzo e così soddisfacciamo un fuori programma Stefano Trompi dove è Stefano? eccolo gli diamo dieci minuti a Stefano ok? uno dei pionieri dell'internet in Italia ecco allora grazie di questo extra sono molto contento e diciamo noi eravamo il Cnuch INFN tutti fra quelli che hanno iniziato il GARE gruppo armonizzazione e reti della ricerca e posso dire che forse il CNR e l'INFN erano quelli con più sensibilità internazionale per la necessità sì la necessità però non voglio dire che non interessasse al Cineca o altri rapporti internazionali ma noi ci siamo poi specializzati da subito anche partendo dal fatto che a Pisa abbiamo fatto il primo collegamento alla rete ARPANET che poi che era già da subito internet perché usava già i protocolli TCP e questo l'abbiamo fatto come volontà proprio di agganciare le cose internazionali più evolute che venivano dagli Stati Uniti poi chiaramente e all'inizio i primi collegamenti in quell'anno furono cinque collegamenti con un collegamento via satellite di 64 kilobit da condividere per cinque utenti ecco e poi però grazie anche al collegamento con l'INFN dopo un anno e mezzo circa ci siamo agganciati al alla prima collegamento ad alta velocità fra Pisa e il centro di Ginevra e quindi siamo entrati in questa evoluzione così ampia e pian piano man mano che l'utenza della rete stava aumentando le rete internet abbiamo sempre approfondito questi rapporti internazionali di cui mi fa piacere citarne uno che fu gestito proprio a partire dal 95 fino al 99 della Global Global Interoperability of Broadband Networks che abbiamo gestito come Italia riferendo al Ministero degli Affari Esteri Enzo Valente ed io e quella è stata una una cosa importante anche perché era una previsione poi lo sviluppo enorme dell'internet perché faceva parte il progetto che noi abbiamo gestito era un progetto nato nei G7 quindi un G7 in Nova Scozia del 1995 ed era una serie di progetti per 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 la progetti pilota per la società dell'informazione è la prima volta che a livello internazionale si è capito che internet avrebbe creato una nuova struttura che è la società dell'informazione che poi però le Nazioni Unite l'hanno fatta partire nel 2003 e poi 2005 a Tunisi proprio per mettere in evidenza che eravamo in una nuova fase di evoluzione anche importante dei rapporti fra tutte le persone nel mondo e questo era uno dei due progetti pilota di natura diciamo strutturale cioè di rete mentre poi c'erano tutte le applicazioni erano 11 i progetti tutti insieme e per esempio l'Italia ha partecipato sia a tutte le applicazioni relativi al patrimonio culturale e poi a quelli della telemedicina e in quegli anni si è favorito questo questa diciamo evoluzione fatta in un periodo nel quale anche su iniziativa di Enzo io ero diventato il presidente di Terena che era l'associazione delle reti della ricerca europee che poi diciamolo pure noi come ricercatori dobbiamo vantarci di essere certamente quello che ha dato sprint poi alla società dell'informazione così in ampia evoluzione come oggi che se si guarda la rete insomma ormai gli utenti della rete hanno superato sono arrivati quasi al 55-56% di utenti rispetto a tutta la popolazione mondiale ecco a me sembra mi è piaciuto l'idea di mettere in evidenza queste cose ma anche di questo ruolo che abbiamo avuto un po' specifico rispetto alle diciamo a tutte le questioni internazionali a seguire il problema non tanto poi solo della parte tecnica ma della parte sociologica se vogliamo anche dell'esplosione dell'utenza della rete e poi l'ultima cosa e chiudo che non è un caso che nel 1992 è stata creata la Internet Society a livello globale e che diciamo nella Internet Society Enzo Valente con il il CNAF di Bologna e io come il Cnoce di Pisa siamo stati fra gli unici due enti italiani fondatori della Internet Society qui mi chiudo grazie grazie a tutti Grazie.